La funzione Root Selector, ovvero selettore di tonica, è una funzione che mi permette di comunicare al software quale nota è da considerare come primo grado. Questo è essenziale quando vado a selezionare la visualizzazione dei gradi per fare in modo che il software, a partire da quella nota, possa calcolare tutti gli altri intervalli. Se voglio, per esempio, che i gradi di questa scala minore di La vengono calcolati a partire dal Do, mi basta utilizzare il Root Selector e cliccare su un Do. Adesso questa nota viene considerata la tonica e questa diventa una scala di Do maggiore, come si vede da tutti gli altri gradi non alterati. Se invece clicco di nuovo su La, questa nota sarà considerata la tonica e adesso i gradi si sono spostati tutti. Ci sono una terza, una sesta e una settima minore e la mia diteggiatura è considerata una scala di La minore. I marcatori rossi sulla tonica sono inseriti manualmente ed è per questo che rimangono in ogni caso sulla nota di La, ma posso rapidamente modificare anche questo utilizzando il selettore in combinazione con l'Octaver. La funzione di selezione della tonica è duplicata all'interno del pannello di generazione delle scale. Poiché le scale vengono generate a partire dalla tonica della tastiera su cui le applico è necessario selezionarla prima, quindi esiste un duplicato della funzione per comodità, in modo che per esempio se voglio visualizzare un refrigio, dallo stesso pannello scelgo la scala dal menu a tendina, clicco sul bottone per selezionare la tonica e poi seleziono la tonica. Dopo, cliccando su Genera scala, la mia scala appare sulla tastiera selezionata. Grazie a tutti.